Il sito nasce come sito per informare le famiglie e i ragazzi dell'offerta formativa delle scuole superiori della Liguria. Il sito presenta per ogni istituto una pagina che comprende una presentazione istituzionale, dei criteri qualitativi uguali per tutte le scuole, quindi si possono mettere a confronto le scuole tra di loro, è una parte più informale che è fatta dai ragazzi delle scuole. Le redazioni di Radio Jeans con cui collaboriamo insieme a Darsu e a Mandragola per mantenere questo sito consente attraverso Radio Jeans di avere per ogni scuola una puntata autogestita dei ragazzi di presentazione della propria scuola. Un'iniziativa che consente da a casa di guardare, studiare e osservare come sono i nostri licei, gli enti di formazione professionale, gli istituti tecnici, le scuole professionali. Quindi invito tutti a visitare guidascuole.net.